Dunque, siamo in pizzeria italica, a Ucce, si buonasera, mi chiamo Marrolo Antonio, sono il maestro internazionale di pizza, ecco, c'è anche il fratello, però, intanto li brucio le pizze, se non lo in giro, Alberto, distraimi, no, no, ti distrago, distrammi, distrammi, guardate, guardate, cioè, questa è, perché siamo in Italia, forno a legna, chiaramente, chiaramente, pizzaiolo italiano, e non c'è quello tunisino, eh, non c'è quello tunisino, oggi non c'è quello tunisino, no, puoi, 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 quello tunisino è specializzato a fare altri tipi di pizza, alla tunisina, alla tunisina, Beh, beh, dai, sono venute bene, eh? Sì, diciamo, di sì, guarda, 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 quanti piatti, eh, la salata, gusta, di chietà, ovviamente, parla anche il polacco, voglio dire, poliglotta, Guardate come, lui, va a fare l'impasto, lui, lui, va a fare l'impasto, andiamo, seguiamo, Sto seguendo, che vai a fare l'impasto, già fatto, ah, già fatto l'impasto, è lì, l'impasto è lì, l'impasto è lì, completato, E' in pausa, e allora, visto che è in pausa, giustamente, dopo tutto questo lavoro, eh, cosa fa? Magna, eh, ma no la pizza, perché lui sa che mi vengono fatte le pizze, mangia polacco, mannaggia, vabbè, io allora torno di là a vedere come fa le pizze. L'impasto è già fatto, è già fatto, è benissimo.